Cari amici eccoci qui per un video in cui andiamo ad aggiungere ancora altre piccole nozioni per fare delle operazioni riguardanti le lamiere. Allora abbiamo qui una curva, una curva a 90 gradi, quindi il tema di oggi è una curva a 90 gradi. Curva a 90 gradi vedete come io l'ho divisa. Perché è fatta così? È fatta in questo modo per un semplice motivo perché in carpenteria come vi ho già detto nel precedente video un diametro, in questo caso è un diametro circa, vediamo un attimino, andiamo a vedere lo schizzo, c'è Milo che sta dando i numeri, Milo è il gatto. E quindi un diametro di 600, quindi un diametro di 600, un tubo che io voglio fare di 2 mm e mezzo per esempio, non posso pensare di acquistarlo, già fatto così. A meno che una ditta non li fa proprio su misura per te, ma in realtà te li devi fare tu, te li devi fare tu con una calandra. Allora, abbiamo già spiegato il come, per cui quindi un diametro di 600 e andiamo a rivedere, questa qui è la nostra curva a 90 gradi. Allora, tu come fai una curva a 90 gradi? Abbiamo già detto che devi decidere se creare una dolcezza nel senso di dividerla in tante parti. Ok, vedete, in questo caso sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, uno direbbe anche sette, no, questa qui l'abbini con questa. Quindi sei parti. Sei parti e questi settori circolari che così tagliati ci crederebbero una curva hanno in particolare una cosa. Hanno dal punto medio al punto medio al punto medio un asse che va da qui a qui, ok, che li, diciamo, fa originare quindi nel suo punto medio un cilindro. Vedete, questa fascia è parallela a questa in quanto questo è un tubo tagliato a spicchio, a fetta di salame. Ok, in questo caso noi avremo degli angoli di, facciamo un calcolo, 90 gradi ad esempio, eh, questo. Questo è un 90 gradi diviso una, due, tre, quattro, cinque e sei compreso questo. Quindi, se io faccio 90 diviso sei, no, prendiamo la calcolatrice, diciamo, di fare 90 gradi diviso sei, ci vengono degli angoli di 15 gradi. Quindi da qui a qui abbiamo un 15 gradi. Naturalmente questo è un sette e mezzo e sette e mezzo. Ok, quindi deciso questo potreste fare una curva anche un po' più spigolosa, come questa qui. Dove? E i settori sono quattro. Uno, due, tre, quattro. Ok? Oppure, come nell'esempio che andiamo a fare noi, la faremo addirittura come nell'esempio precedente, nella curva che abbiamo fatto nell'innesto conico, abbiamo fatto una curva con, sì, simile a questa qui. Allora, come fare questo? Ormai dovremmo averlo imparato. Intanto mi sto bevendo una sambuca che non è niente male. Dunque, allora, quali sono i dati di progetto quando fai una curva? I dati di progetto sono, tu hai un asse, questo, che passa qui in mezzo, no? E ha un raggio, questo asse, ha un raggio. Ok? Dopodiché l'elemento fondamentale è il diametro e la tua scelta, a secondo di quello che stai facendo, il fluido che deve passare nel tuo tubo, dovrai decidere in quanti settori farlo. E mi dirai, ma perché non potevo partire direttamente da qui con degli angoli tutti uguali, invece che fare questo qui, questo mezzo, questo mezzo, rispetto a questi qui? Ve l'ho già spiegato nel video precedente, perché vedete che qui, vedete che qui io vado a raccordarmi con un diametro di 600. Se avessi fatto una cosa differente, poi tu non puoi sviluppare questa virola, chiamiamole virole, chiamiamole settori circolari, perché la geometria sarebbe una geometria sfalsata. Ok? Allora, detto ciò, andiamo a vedere come fare il nostro esercizio. E quindi, dato, diamoci dei termini, quindi aprite naturalmente uno standard IPT Crea, ok, andiamo a fare uno schizzo 2D, io vado sulla casetta, chi ha le versioni successive al 2018, al 2019, non dovrebbe avere questa necessità di andare a casetta, perché dovrebbe trovarsi, credo, eh, ditemelo, gli assi già girati giusti. Io invece li vado a girare in questo modo, in modo tale che questa qui è la mia base. Ora in questa base qui io vado a disegnarmi un cerchio del diametro, decido io, fate voi, anche voi se volete cambiare, fate un 600 di diametro, ok. Dopodiché un doppio clic sulla rotellina, mi allarga la visualizzazione a quella ottimale, dove viene inserito il mio, tutto il mio disegnato, nello schizzo, concludo lo schizzo e mi trovo in questa condizione. Come fare adesso la nostra curva? Noi vorremmo fare una curva, allora ne abbiamo fatta una con uno, due, tre, quattro settori e poi ne abbiamo fatta un'altra con uno, due, tre, quattro, cinque, sei settori. Possiamo farne una di tre o conviene andare avanti con quella di quattro. Come facciamo a fare quattro settori? Allora, qual è la nostra strategia di sviluppo? Noi lavoreremo sulle superfici, abbiamo visto questa strategia, ok, partendo da un IPT e creare poi l'assieme. Allora, a questo punto noi dobbiamo fare uno schizzo 2D, prendiamo casetta e prendiamo uno schizzo, per esempio, su questo piano. Ok, vediamo il nostro cerchio, lo vediamo defilato e diventa un segmento, no? Qui dovremmo partire e creare che cosa? Una traiettoria fatta a segmenti, tan 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 tan, quanti. Allora, strategia interessante da fare è quella di partire costruendo un poligono. Allora, il nostro poligono, se io voglio fare quattro lati per settore, quattro lati per settore, io dovrò scrivere, quindi, 4 per 4, settore di 90 gradi, sono 4 per 4, 16, io dovrei fare un poligono di 16 lati. Vediamo se viene, eh? Ok, dopodiché dobbiamo trovare un centro, lo prendiamo a caso, qui così, e poi facciamo questo lavoro, qui così. Ok, abbiamo fatto il nostro settore. Allora, devo verticalizzare, io faccio così, verticalizzo questo punto con il punto medio. Ok, vedete, ora questo è metà, questo è metà di questo, quello che volevo ottenere. Naturalmente questo ho posizionato male, perché adesso devo dirgli, orizzontalmente, tu sei orizzontale in questo senso. Benissimo. Ora però, questo punto deve combaciare con questo, quel punto è il punto medio, quindi dico coincidenza del, questo punto medio con questo punto di partenza. A questo punto dobbiamo dire anche che distanza c'è da qui a qui, quindi io vado a dare la quota da questo punto a qui e gli dico che per esempio è di mille, un raggio mille. Ok, quindi evidentemente anche da qui a qui, se non ho bevuto troppo sambuca è mille, vedete, se gliela do lui mi dice guarda che non me la puoi, cioè non mi interessa, nel senso di dire è superflua, se io dico accetta me la mette, ma me la mette tra parentesi, però è ininfluente, perché mi va a ipervincolare quello che è già vincolato, quindi io la elimino. Ok, benissimo. Adesso abbiamo delle parti eccedenti, precedenti, quindi praticamente il nostro lavoro è quasi finito per quanto riguarda la nostra, abbiamo uno, due, tre e mezzo e mezzo, quattro settori, quindi allora in questo schizzo io vado a farmi una linea, un asse praticamente, questo, gli dico che è un asse di costruzione, cioè un asse di costruzione, avete visto come ho fatto farlo? a questo punto, cosa gli vado a dire? Vado a, non vado a dire, vado a tagliare, tagliamo i rami secchi che sono questo, questo, questo signore, tutto ciò, no? Ok, ok, è ok. Allora, a questo punto, a questo punto, cosa può succedere? Perché non, non, questa situazione, ho tagliato anche questo pezzettino qui, andiamo ad aggiungerlo, ma non, non diciamogli che è una, che è una linea di costruzione, diciamo che è normale, è normale, ok. A questo punto, per far diventare tutto verde, andiamo a quotargli un angolo, ok, e questa misura è sballata, mi sembra, vediamo, o no, vediamo se è vera, allora, vediamo se anche questa è più uguale, ok, accetta, ok, ci va bene, andiamo a dirgli che questa qui è uguale, questo segmento è uguale a questo, andandogli a dire che questo qui è uguale a questo, e questi qui per costruzione erano uguali tra di loro, no? che abbiamo mosso delle cose, per cui ha perso l'idea, questo l'ho aggiunto successivamente dopo, perché quando tagliato, in realtà mi ha tagliato tutto, e quindi ho dovuto ricostruirlo, e ora ho dovuto dirgli che era uguale, quindi non era necessario, vedete che questo qui, lo possiamo anche eliminare, rimane tutto concluso, e quindi vado a concludere lo schizzo, ok, cosa mi trovo? Mi trovo due schizzi, e nessuna operazione 3D, l'operazione 3D la facciamo ora, dicendogli di, mettiamoci in questa posizione, diciamo, senti, fanno uno sweep, sì, ma non dell'area, lo voglio della superficie, e voglio che il percorso, lo seleziono, è questo qui, ok, e lui me l'ha fatto, ok, quindi io ho riprodotto questa situazione, a questo punto, devo andare a fare la solidea, l'ispessimento di questi anelli, allora, l'ispessimento di questi anelli, vi ricordo, abbiamo fatto così in spessisci, e abbiamo dato la misura, ora diamogli per esempio, 2.5, ok, seleziona questo signore, e gli dici, nuovo solido applica, ok, poi ancora, in spessisci, è sempre 2.5, nuovo solido, questo, applica, nuovo solido, scusa, rifacciamo, se no, magari non ha preso il nuovo solido, in spessisci, nuovo solido, questo, e 2.5, applica, siamo ancora dentro, nuovo solido, questo, applica, nuovo solido, questo, applica, ok, a questo punto, la nostra curva, deve essere, convertita, in lamiera, in realtà, quindi, perché la converto in lamiera, perché in realtà, quando le curve sono fatte in questo modo, sono saldate tra di loro, quindi, vuol dire che, è fatta da più pezzi, c'è questo, che è uguale a questo, più 1, 2, 3 anelli, che sono uguali tra di loro, quindi, in realtà, in realtà sarebbero 4, ve l'ho già detto, la volta scorsa, sarebbero 1, 2, 3, e 4, con questo qui, tagliato a metà, in modo tale che, saldato opportunamente, si ricostituisce questa situazione, lo vediamo in questo modo, ok? Poi qui, naturalmente, i tubi, hanno necessità, di, a volte, di avere una flangia, perché, non è detto che da qui, e qui siano saldati, possono essere flangiati, comunque, questo rimane poi, un altro discorso, un discorso che, dovreste saper già fare, allora, a questo punto, qual è, la situazione successiva, che ormai dovreste sapere, se avete seguito, i precedenti, video, della playlist, delle lamiere, andate a fare, conversione in lamiera, conversione in lamiera, allora, andiamo a vedere, che tipo di, di valori, di default, della lamiera, noi stiamo parlando, abbiamo dato, un valore, di 2,5 a tutto, quindi, noi, andiamo a dire, che il valore, della nostra lamiera, quando, noi facciamo le lamiere, non possiamo, lavorare con lamiere, di differenti spessori, nello specifico, a meno che, non stiamo lavorando, in un assieme saldato, dove inseriamo, lamiere, che vengono, da vari IPT, in questo caso, noi dobbiamo avere, un unico tipo di spessore, quindi, regola della lamiera, andiamo a prendere, questa qui, di default, millimetri, se non, la voi dovrebbe essere, già selezionata, poi, andiamo sulla matita, entriamo dentro, nelle varie regole, dove potete regolare, una serie di parametri, tra cui, a noi, in questo momento, interessa solo dire, che lo spessore, è di, 2,5, salva e chiudi, applica, ok, dopodiché, noi, siamo adesso, dentro, abbiamo dato, questo tipo di valore, e, che ci consentirà, successivamente, se avremo successo, di poter sviluppare, le virole, che compongono, questa, questa, curva, ora, detto ciò, cosa dobbiamo fare, dobbiamo, distinguere, ogni singolo, ogni singolo, pezzo della curva, in modo, quindi scomporre, questo che è un assieme unico, perché noi siamo ancora, in un IPT, siamo nella parte, chiamata ancora, parte 3, anzi, diamogli un nome, facciamo un salva, non l'ho salvato ancora, col nome, lo chiamiamo, curva, a, 90, gradi, ok, salva, ok, questo però, siamo in un IPT, quindi in una parte, adesso andiamo, crea componenti, curva, a 90 gradi, punto gli anti, va bene, sì, allora, e ti dici, voglio questo, voglio questo, poi voglio questo, poi voglio questo, e poi voglio questo, avanti, ok, sono 1, 2, 3, 4 e 5 pezzi, 1, 1, 2, 3, 4 e 5 pezzi, vi ho già detto, che qui se volete, se siete dentro un progetto, avete la necessità, di rinominarli, li rinominerete, entrando qui, e per esempio, questo qui sarà, l'anello, 0, 1, questo lo 0, 2, lo 0, 3, lo 0, questo sarà sempre, 0, 2, 0, 2, 0, 2, questo sarà lo 0, 1, perché, perché, sì, sono uguali, tra di loro, però, in questo caso, noi dobbiamo differenziare, in questo modo, a noi non interessa, cambiare il nome, in questo momento, vi ho spiegato il motivo, e la modalità, se lo vorreste fare, dopodiché fate, applica, qui io adesso, devo dare, tutti questi seri di ok, a voi non dovrebbero uscire, ok, cosa è successo, cosa è successo, chiudo tutto, e vado a vedere, e io mi trovo, una curva, IPT, a 90, e poi mi trovo, la curva, a 90 gradi, punto IAM, quindi questo è un assieme, un assieme dove, ogni singolo, pezzo, è, un pezzo, a se stante, è un IPT, quindi, per esempio, adesso passiamo a questo qui, e facciamo, il solito discorso, che ormai dovreste sapere a memoria, di dividerlo, dove lo dividiamo, magari lo dividerei, qui nel punto più stretto, lo facciamo per due, 1, 1, 2, e, voi procederete, tutti gli altri, concludere l'esercizio, io per non dilungarmi, lo faccio solamente su questo, quindi, dobbiamo inserire un punto di riferimento, quindi, un punto di riferimento, ho selezionato un pezzo, vedete che sono dentro questo pezzo, apro, e vado a trovare le sue origini, e prendo un piano, questo piano, ok, questo piano, quindi, attenzione, no, vado a riprendere, questo piano, punto, no, rifacciamo, punto, aia, Sambuca sta facendo effetto, riprendiamo, punto, su questo piano, me lo trovi su questa circonferenza, eccolo qua, e l'ho trovata qui, dopodiché gli dici, separazione, vediamo se funziona, eh, perché non sempre funziona, mi dice, punto singolo, rispetto a questo cerchio, questo punto, e me l'ha trovata, allora, ti propone, lui ti propone sempre lo spessore, pare, la divisione, il taglio, come se passasse una fresa, larga, 2,5, perché è la stessa misura, dello spessore, vedete, quadratino, noi gli diciamo no, non voglio la dimensione gioco, che, dimensione gioco, sta a significare, in sostanza, che, se tu hai una lamiera, di 3 mm, io ti faccio, un gioco di 3 mm, se ce l'hai di 4, te la faccio di 4, in realtà, noi, quando andiamo a calandrare, facciamo un calcolo, dello sviluppo, del punto medio, tra la circonferenza interna, e la circonferenza esterna, esiste la circonferenza media, che è quella che passa qui, quella che passa in mezzo, le due, e voi farete, lo sviluppo della circonferenza media, e andate a sottrarre, eventualmente, solo, punto 1, quello che vi ho detto, che andrete a fare, non è che andrete a farlo, vi sto spiegando, che sarà fatto così, applica, eccola qui, è un piccolo, un micro taglio, ok, perché dopo, andremo a saldare, questo, a penetrazione, senza fargli, su 2,5 mm, è inutile fare la preparazione, a meno che non siano i millimetri, siano 5, 6 mm, allora si, andiamo a fare il taglio, come abbiamo fatto, in un, nel primo esercizio, in questo caso, non lo facciamo, e l'abbiamo qui, possiamo chiedergli di vedere, lo, il modello piatto, di questo, ed eccolo qui, nel prossimo esercizio, che faremo, il prossimo video, vi farò vedere, come quotare, come quotare, quindi, gli sviluppi, e come quotare una curva, nella fattispecie, quindi questo esercizio, magari lo prolungheremo, fino all'IDV, per ora ci fermeremo, alla sua esecuzione, quindi abbiamo fatto questo, andiamo a fare, ora, andiamo a riavvolgerlo, ok, doppio clic, sulla rotella, lo vediamo qui, e se andiamo a casa, lo vediamo così, vedete come è fatto, questo personaggio, vedete, taglia, è, qui è perpendicolare, qui ha un taglio, questo sono, il, l'inizio, e la fine della curva, andiamo a vedere, andiamo, entriamo nello IAM, andiamo a prendere questo qui, idem, stessa cosa, vediamo se riusciamo a fare, anche qui, lo stesso lavoro, un punto, rispetto, alle origini, apriamone, rispetto a un piano, ingrandiamo, così capiamo, qual è il piano, di riferimento, diciamo questo, ok, rispetto a questa circonferenza, eccolo qui, che mi ha selezionato lui, il piano seccante, la, che, cioè, l'intersezione, tra quella circonferenza, il piano, passa di qui, o di qui passava, abbiamo chiesto questo punto in basso, e ce l'ha fatto qui, chiediamo ora di fare la separazione, separazione, rispetto a questa circonferenza, su questo punto, abbiamo detto, come qui, facciamo anche qui, punto un decimo di millimetro, quindi è quasi ideale, il taglio, e diciamo, ok, o applica, ok, anche di questo, possiamo vedere, quindi, possiamo vederne, lo sviluppo, andando a chiedere, siamo dentro, vedete che siamo, c'è un torna, vuol dire che siamo dentro, possiamo chiedere di fare, modello piatto, modello piatto, cosa ci ha creato, un IPT, solido 2, perché il nome, che abbiamo lasciato, era solido 2, e lui ce lo chiama, solido 2, ok, attenzione a quello che vi dico, abbiamo finito praticamente l'esercizio, ritorniamo nello IAM, cambiate voi questa volta, la caratteristica, del materiale, vi ricordo come farlo, entrate in uno di questi, gli dite, non generico, ma, acciaio inossidabile, se volete fare, acciaio inossidabile, ok, fa, ok, se ritorniamo nello IAM, questo qui sarà, in acciaio inossidabile, fate la stessa cosa per tutti gli altri, poi, dopodiché, attenzione, se voi dovete fare di questa curva qui, quindi cambiate per bene tutto il materiale, ma, fare il taglio, fare il taglio di tutti, di tutti, non ha, non c'è bisogno, per quale motivo, perché tagliando tutti, ok, allunghiamo il lavoro, ma inutilmente, perché, se questo è uguale a questo, ce l'ho, poi, se questo è uguale a questo, uguale a questo, fatta una, le ho anche le altre due, per cui, per quanto riguarda, il mio, diciamo, la mia quotatura, mi bastano una, una, due, da poter sviluppare, questi sono, se non li tagliano, non sono sviluppabili, quindi, benissimo, qui il video è terminato, se non sei ancora iscritto, ti iscrivi, se per caso, è il primo video che vedi, sappi che, qui ci sono, cento, e sessanta, ora, arriveremo anche di più, video, di un corso, che ti porterà, a una conoscenza, di livello base, di questo, software, io sto lavorando sul 2018, ma naturalmente, naturalmente, se tu sei sul 2020, 2019, 2020, 2021, meglio ancora, c'è qualche piccola differenza, che imparerai a compensare, man mano, che farai, il tuo, percorso, di apprendimento, quindi, per favore, se non sei iscritto, iscriviti, e fai iscrivere, anche i tuoi amici, è tutto, gratis, un saluto, da, Piercad, un saluto,